Davide contro Golia, il giornalista che batte il giocatore. Le zap del torneo master del Poker Grand Prix incorona Fabio Bianchi, inviato della Gazzetta dello Sport, capace di sconfiggere un campionissimo grifato G di Poker come Cristiano Guerra. Porta a casa 50.000 euro e un trionfo che lo fa volare altissimo. Mi tengo stretto questo trofeo la prima volta che vincuto a me e sono contentissimo, soprattutto perché ho fatto le zap con un campione e l'ho vinto. Devo dire onestamente non ho giocato benissimo, ho giocato meglio lui, forse le zap ha più esperienza. Ho giocato meglio prima, nelle fasi precedenti, però tutto sommato sono cavata, ho fatto anche un paio di blef, ho dimostrato comunque di avere un po' di coraggio. Sono contento perché finalmente ho vinto il torneo, ormai qualcuno ne gioco, sono arrivato due volte al secondo, mi scocciare per la terza volta al secondo, c'è il 2 senza il 3. Anche perché con quel 7-7 potevo chiuderla subito quando eravamo in 3 e niente, non ho avuto lì, ho avuto un po' meno coraggio e quindi abbiamo dovuto fare le zap. Però è andata bene perché poi penso sia stato molto divertente, insomma ribaltamenti di fronti. L'hai fatto per lo spettacolo, si vede che sei un cronista vissuto. Eh sì, perché se no la gente si annoiava a casa, le zappe, abbiamo fatto un po' di numeri, poi abbiamo giocato, cioè è stato bello perché non proprio sempre olino, olino, olina. A me piace insomma di più giocare, vedere flop, sono un po' vecchio stile, non sono un giocatore online, quindi. Consueta sportività per Crisbus che dopo aver raggiunto il terzo final table al PGP sfiora il trionfo. Non arriva, ok, ma è comunque un'occasione per sottolineare i meriti dell'avversario. Ho fatto la mia parte, poi comunque il mio avversario ha giocato bene, le carte hanno deciso scala contro scala e poi 10-10 jack-jack, non c'è nulla da fare nel zap, non cooler, quindi è inimitabile. Michele Grafeo sale sul podio al terzo posto e lo festeggia con il sorriso, senza nessun rimpianto. Bellissimo, stupendo, veramente. Per me è come se fosse il primo. Ventito di qualcosa? Niente, niente. Proprio ho giocato bene, sono stato anche molto fortunato, perché comunque ci sono stati dei episodi che ho già raccontato. Penso di averlo guadagnato, questo terzo posto. Provenendo da un satellite? Provenendo da un satellite. Mi hai investito quanto? 220 euro. Per vincere? 25.250 euro. E che ci fai? Un po' di cose. Mi iscriverò ad altri tornei e comprerò qualcosa, non lo so, adesso poi con calma ci penserò. Il clima del Poker Grand Prix resta magico e l'appuntamento è già fissato per gennaio. Ci attende il gran finale. Il clima del Poker Grand Prix resta magico e l'appuntamento è già fissato per gennaio.